rainbow più veloce più veloce vediamo come ti sembra questo senza mani iris no reggi di forte volare tranquilla rainbow non fare la guastapeste oh no sta arrivando un aereo iris no iris iris stai bene voglio una pizza con i funghi oh no iris hai sbattuto la testa molto forte stai delirando dobbiamo portarti da un medico avremo bisogno di iscrizioni per farti riprendere sì giusto in tempo non muoverti torno subito rainbow 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 oh cosa succede piccolina c'è qualcuno in pericolo rainbow 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 direi che è successo qualcosa alla tua padroncina tranquilla sali e portami da lei vi aiuterò io oh no questa paziente sembra molto ferita svelta dobbiamo portarla in ospedale rainbow rainbow non c'è tempo da perdere muoviamoci parlo alla dottoressa stacy mi dirico verso l'ospedale con una paziente che ha subito un forte colpo alla testa passo ricevuto passo e chiudo rainbow tranquilla piccola si riprenderà dai dai la paziente non resisterà a lungo dobbiamo arrivare subito ehi guarda dove vai la prossima volta non si può neanche più passeggiare tranquillamente finalmente eccoci oh no bisogna assisterla immediatamente non possiamo aspettare di arrivare in ospedale proprio come pensavo iris ha ricevuto un forte colpo in testa e anche al braccio rainbow tranquilla rainbow è stabile e si riprenderà quello che non so è che tipo di ripercussione avrà questo su di lei lo scopriremo non appena si sveglierà dove sono? oh rainbow rainbow e voi chi siete? oh no proprio quello che pensavo amnesia rainbow sarà meglio portarti in ospedale una volta per tutte questa ragazza è gravemente ferita abbiamo bisogno della dottoressa anatomia e di moltissimi mi piace per poterla curare ehi 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 mi dispiace in questo ospedale non possono entrare animali dovrei attendere fuori oh oh rainbow oh la mia testa sono in ospedale? oh come mi chiamo? mi gira tutto oh tranquilla questi sintomi sono normali hai dato una botta molto forte torno subito con i risultati un momento ho bisogno di sapere come mi chiamo non ricordo niente cercherò qualcuno che possa aiutarmi rainbow non mi muoverò da qui senza iris spero che si riprenda presto gelati chi vuole dei buoni gelati? rainbow io vivo qui come faccio a non ricordare niente? ehi ehi guarda un po' cosa ci fai in questo quartiere pasticciona? eh? mi conosci? certo che ti conosco quell'arcobaleno orribile e inconfondibile eh? e come hai detto che mi chiamo? scusa ma mi sono svegliata in un ospedale e non ricordo niente mi potresti aiutare? ahahahah davvero? beh non ti devi preoccupare io posso aiutarti a ricordare il tuo nome è pasticciona e io sono Ashley siamo grandi amiche di fatto sono la tua unica amica oh allora sono stata fortunata ehi 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 ciao mami come? in che senso quel modello di borsa è esaurito? arrivo subito ho una super mega urgenza a proposito oggi è il mio compleanno e ti conviene farmi un regalo bello costoso? ne va della nostra amicizia ciao ciao ma... un momento Ashley e cosa ci faccio con questa benda in testa? sto impazzendo ma... iris stai bene? ti ho visto parlare con Ashley iris? credo tu ti stia confondendo io mi chiamo pasticciona ma iris cosa stai dicendo? si può sapere cosa ti ha detto quella odiosa di Ashley ma vuoi smettere di chiamarmi iris? e Ashley è mia amica non parlare male di lei Ashley tua amica? si la mia unica amica guarda non so cosa ti sia successo ma sei molto strana sarà meglio che ti lasci andare dalla tua nuova amichetta oh che giorno strano mi sembra di essere in un film ma... rainbow cosa ci fai in ospedale? rainbow ti sei persa? ho appena visto iris in città ma era molto strana sinceramente non ho capito molto della nostra conversazione e secondo me nemmeno lei rainbow ehi dove vai così in fretta? ma cosa succede oggi? sono tutti stranissimi cosa posso fare per ricordare? non posso aspettare tutto il pomeriggio che Ashley torni iris iris questa voce mi è familiare rainbow ecco di qui tu di nuovo oh non ricordo nulla come stai? un po' disorientata non capisco tu chi sei? un cane blu? un piccolo pony? e come mai riesco a parlare con te? eh? ah iris ma cosa dici? non ricordi nulla sono rainbow no ma per fortuna la mia amica Ashley mi ha spiegato un po' di cose ma ho bisogno di saperne di più come? Ashley tua amica non sai cosa stai dicendo iris devi aver sbattuto proprio forte lascia che ti spiego una cosa ma è un segreto cosa? sono il tuo animaletto tuo anicorno ma entrambi abbiamo la capacità di trasformarci in supereroine supereroine? non ci credo rainbow e ti assicuro che il tuo nome è iris e che Ashley è solo una sciocca che cerca da sempre di renderti la vita impossibile oh cavolo e cosa facciamo ora? ho bisogno di tornare la iris che ero prima per farlo bisognerà tornare in ospedale non ti preoccupare iris con un'iniezione di mi piace delle bambine e i bambini ricorderai di nuovo tutto sei pronta? sì pronta ecco fatto ecco fatto come stai? ricordi qualcosa? sì funziona ricordo che mi chiamo iris white che vivo a real fantasy e sono incapace di separarmi dal mio unicorno rainbow a proposito dov'è? era una sorpresa ma... eccola qua rainbow rainbow non so come ho fatto a dimenticarti grazie per starmi sempre accanto rainbow che ne dici? andiamo a festeggiare con una pizza? la vuoi con i funghi vero? e tu che ne sai? poi ti spiego